La galleria Passo del Lupo che collega la Puglia al Molise, la provincia di Foggia, quella di Campobasso, è nuovamente chiusa al traffico. I disagi sono tanti, soprattutto per quei comuni come San Marco Lacatola, Caslantino, Celenza, Val Fortore, che si trovano proprio al confine, ma disagi anche ai comuni molisani e al resto della provincia. Noi siamo con il sindaco di San Marco Lacatola, Luigi Piacquadio. Davvero tanti disagi, vero? Sì, sicuramente tanti disagi. Questa cosa è stata fatta già presente nell'incontro che si è tenuto ad aprile in provincia, con i vertici ANAS, con i dirigenti della provincia, proprio per far presente il disagio sia per i pendolari, per tutti coloro che quotidianamente percorrono questa strada, ma non da trascurare gli effetti devastanti sull'economia locale, perché comunque la chiusura della galleria comporta delle penalizzazioni fortissime per tutti coloro che hanno attività commerciali lungo la strada che appunto collega Foggia a Campobasso. In questo incontro che si è tenuto appunto in provincia, noi sindaci delle aree interessate abbiamo proposto anche ad ANAS quella che potrebbe essere una soluzione tampone, almeno per non risolvere ma mitigare i disagi, cioè quella di creare una bretella laterale alla galleria, quantomeno per i mezzi leggeri, perché ovviamente i mezzi pesanti non è percorribile. Al che da parte di ANAS c'erano dirigenti sia regionali che nazionali, c'erano delle perplessità soprattutto dal punto di vista finanziario, perché dice i fondi stanziati sono per la ristrutturazione, però noi abbiamo fatto presente che quando si fanno queste opere non si può non tener conto degli effetti che queste hanno sulle comunità, perché parliamo comunque di comunità già fortemente in crisi o che hanno forti problematiche. Quindi in quell'incontro io ho fatto presente che considerando il lavoro fatto e quello da fare, io ho stimato almeno circa 20 mesi ancora di chiusura della galleria e questo anche in maniera non esplicita mi è stato confermato da un dirigente, perché i tempi sono quelli. Allora, signori, bisogna trovare una soluzione, questo che deve fare la politica. Sindaco, anche Carlantino sempre più isolata? Purtroppo sì, come anche i comuni limitrofi, perché appunto i lavori si stanno protraendo tanto e quindi anche Carlantino vive questo disagio, ma vive questo disagio anche perché aumenta il traffico sulle vie alternative che non sono adatte di certo a quel volume di traffico e di camion che girano in questa fase dell'anno. Cosa intendete fare? Ci siamo già da tempo sentiti con gli altri sindaci, abbiamo provato a fare delle proposte che non sono purtroppo state accettate e niente, speriamo che quanto prima si risolve il problema. Oltre a San Marco Lacatola e Carlantino disagi anche per la popolazione di Celenza Valfortore. Sindaco, si prevede ancora tantissimo tempo con la galleria chiusa, cosa intendete fare? Purtroppo sì, la galleria rimarrà chiusa per diversi mesi ancora, si parla di oltre due anni. Quello che noi abbiamo fatto nella riunione prima dell'ultima chiusura della galleria è stata quella di spuntare con i dirigenti dell'ANAS quantomeno una bredella al lato della galleria per permettere la viabilità almeno al traffico leggero, così da mitigare leggermente questo disagio. Perché col tratto della galleria chiusa le persone sono costrette a fare un lungo tratto e tortuoso, parliamo che passano verso il bosco di Cerenza, di Pietra e quant'altro e quindi rendere difficile questo spostamento delle aree non solo nostre ma anche del versante campano di San Bartolomeo e dei comuni limitrofi. Il nostro auspicio è che l'ANAS, come aveva promesso, avrebbe fatto questa bredella. Speriamo che dopo che si aprirà in agosto, prima della prossima chiusura invernale per far proseguire i lavori, ci sia effettivamente questa bredella così tanto da mitigare un po' questo handicap che abbiamo avuto con la galleria. I lavori andrebbero velocizzati in quanto sono lenti perché questi mesi qua, questi giorni che rimarrà chiuso faranno solo 120 metri di galleria per arrivare poi a un chilometro. Capite bene che ci vogliono gli anni.